nel riflettere sugli scenari che ci possono attendere nella fase post pandemica è prima di tutto proprio il prefisso opposta essere degno della nostra attenzione più che essere realmente volti ad aprire gli orizzonti del futuro mi pare che i modi con cui ci stiamo apprestando a pensare la frattura causata dall'emergenza sanitaria globale siano segnati dalla tendenza alla storicizzazione immediata del presente. François Hartog già parlava di presentismo nel definire il regime di storicità che ha caratterizzato i primi anni del ventunesimo secolo. A maggior ragione oggi è inevitabile che la natura traumatica di quello che stiamo vivendo ci stia portando a concepire il presente nel momento stesso in cui lo stiamo esperendo come già storico come già passato ma allora come evitare di immaginare oggi un futuro che non sia un futuro anteriore bensì un futuro veramente aperto al possibile. I media hanno senz'altro un ruolo primario nell'azione di compressione del tempo e dunque nell'archiviare come già metabolizzato il flusso degli eventi. Le parole e le immagini che circolano appartengono a un apparato che muta in forma di consumo qualsiasi esperienza. Tutto in sostanza è convertito in spettacolo ma la saturazione del campo del visibile è oggi davvero senza precedenti. Un po' tutti ci stiamo improvvisando esperti di comunicazione, addirittura fotoreporter, filmmaker, giornalisti, montatori. Una vera ipertrofia mediatica ingenerata e alimentata non solo dai professionisti ma anche dall'uomo comune. Ma allora rispetto al passato una differenza c'è, una differenza sussiste. Dopo i grandi traumi storici la storia del pensiero e della cultura è stata attraversata dall'impossibilità di dire e di rappresentare. Ricordiamo che dopo la prima guerra mondiale come scriveva Walter Benjamin i soldati tornano muti dal fronte. Dopo la seconda guerra mondiale l'incommensurabilità dell'esperienza concentrazionaria crea delle scissioni sulla possibilità di tradurla in discorsi e in rappresentazioni. Poi con l'11 settembre da un lato si assiste alla pura iconizzazione della tragedia per dirla con Mitchell. Dall'altro lato si inizia a dire che quanto accaduto sia stato il compimento delle prefigurazioni contenute nell'immaginario apocalittico collettivo che è stato creato in particolar modo dal cinema. Nulla però è stato simile alla paralisi della vita sociale cui siamo stati sottoposti durante la quarantena dove ogni nostra relazione professionale e affettiva è stata sostituita dalla potenza dei dispositivi comunicativi. Questi dispositivi è vero ci hanno consentito di mantenere i contatti con chiamate, scambi di fotografie, videochiamate e costanti aggiornamenti sui social e in questo modo abbiamo ampliato il raggio delle nostre competenze tecnologiche. Ma oggi molti più della crisi della rappresentazione o del visibile temono la crisi delle autentiche forme di socialità. Sostengono che continuando di questo passo l'ipermediatizzazione sopprimerà la ricerca di contatti fisici, di contatti corporei, ma a mio avviso nei confronti del futuro si tratta ancora una volta di comprendere quale atteggiamento assumere, non tanto quello degli apocalittici o degli integrati, quanto piuttosto lo sguardo sobrio e fermo di chi si interroga sulla reale possibilità di considerare il laboratorio mediale a cui ci siamo prestati in questo periodo, quale luogo in grado di conferire a un ampio numero di soggetti doti metacomunicative, cioè capacità strategiche nel pianificare, nel progettare i propri discorsi in funzione delle nuove strumentazioni tecniche. La mia paura è infatti che alcune fasce della società rimangano escluse da questa evoluzione delle forme di esperienza sociale attraverso i media, come in parte si è sempre verificato nella storia, ma allo stesso tempo sono convinta che coloro che hanno affinato le proprie competenze, i propri strumenti comunicativi debbano assumersi la responsabilità di riaprire i campi del possibile per quanto concerne la costruzione di ponti, di legami, di contatti fra le persone, reinterpretando in questo modo i modelli di costituzione e rifondazione della comunità. E forse in questo modo attraverso i media non solo potremo monitorare le trasformazioni in corso, ma anche recuperare quel prezioso senso della distanza storica con cui nel futuro potremo guardare davvero a quanto accaduto creando il posto per il ricordo e la commemorazione di chi è stato protagonista di un presente sfuggente e traumatico, un presente lo sappiamo lacerato da numerose vittime, ma anche sostenuto da tanti eroi del quotidiano che hanno vissuto e sperito in modo diretto ciò che per altri è stato pura rappresentazione da guardare comodamente nelle proprie celle di isolamento, cioè nelle nostre case. In futuro l'archivio delle registrazioni, dei video, delle testimonianze e delle tracce mediali a nostra disposizione sarà vastissimo, sarà un archivio immenso, ma saranno nuovi gli sguardi di coloro, e non uso il plurale a caso, che sapranno interrogare questi materiali. Grazie a tutti.